Purtroppo continua l'olocausto vaccinale da terapia genica a sperimentare, sarebbe più proprio dire. Tragedia ieri sera sul Mona, un uomo di 65 anni colpito da improvviso malore è morto nel giardino di casa. Per Giuseppe Ramunno, queste le generalità, non c'è stato neppure nulla da fare. Ieri l'altro Ramunno si era vaccinato. Ieri l'altro Ramunno si era vaccinato. Quindi vedete almeno la correlazione temporale evidentissima e strettissima. Sarà adesso l'esame autoptico a stabilire se il vaccino moderna, inoculato l'uomo, possa aver provocato il malore e il decesso. Poi ovviamente diranno di no o che non è dimostrato o quantomeno non è dimostrabile. Però un altro caso purtroppo. Tragedia alla Rabona, colto da malore, muore nel giardino di casa. E di oggi è freschissima, recentissima, spero che si veda, 25 luglio 2021. Giuseppe Ramunno, riposi in pace anche lui. Vi invito a iscrivervi al mio canale. Come sapete io documento sempre. A mettere il like se vi piacciono i contenuti proposti e se apprezzate lo sforzo informativo che pongo in essere.